Settimana intensa e carica di emozioni in La Promessa. Il momento della verità è finalmente arrivato e il destino di due personaggi è appeso a un filo. Abel e Gianna si trovano di fronte a una scelta devastante che potrebbe cambiare per sempre le sorti del palazzo. In una stanza carica di tensione, le loro menti sono divise tra il dovere e il cuore. Chi dovranno salvare, Feliciano o Curro? La situazione è critica e il tempo stringe, mentre Feliciano, fedele servitore del palazzo, gioce in bilico tra la vita e la morte. Dall'altra parte, Curro, giovane e fragile, lotta per sopravvivere, con la sua esistenza ormai nelle mani di Abel e Gianna. I due si guardano negli occhi, consapevoli che qualunque decisione prenderanno segnerà per sempre il destino di entrambi i pazienti, ma anche il loro stesso futuro. Abel, con il suo ruolo di medico, è diviso tra la razionalità delle cure e il peso emotivo che lo lega ai personaggi coinvolti. Gianna, altrettanto tormentata, sente su di sé la responsabilità di una scelta impossibile. Mentre i secondi sembrano trascorrere come ore, la tensione nella stanza cresce e i due si rendono conto che non possono salvare entrambi. Uno, tra Feliciano e Curro, dovrà morire. In questo drammatico momento, la posta in gioco non è solo la vita dei due uomini, ma anche il delicato equilibrio che regge il palazzo. Non perderti l'appuntamento che cambierà tutto. Iscriviti al canale per scoprire chi sarà il fortunato e chi invece dovrà lasciare il racconto. Curro e Feliciano, due uomini con destini intrecciati, vedranno le loro sorti cambiare per sempre in questo episodio cruciale della promessa. Cosa spingerà a Belejana a fare questa terribile scelta? Quali saranno le conseguenze per chi sopravvive? Feliciano sta peggiorando rapidamente e bisogna agire in fretta. La sala operatoria si blocca, avvolta in un silenzio opprimente. E i Belejana si guardano, consapevoli di dover prendere una decisione impossibile. Chi salvare? Curro, già sotto i ferri, o Feliciano, la cui vita si affievolisce istante dopo istante. Fuori, parenti e personale del palazzo attendono con ansia, sapendo che qualunque scelta spezzerà un destino. In questa situazione d'emergenza, la salute di Feliciano non può essere ignorata. A Belejana decidono di optare per un intervento su Curro, già anestetizzato, con l'intenzione di affrontare immediatamente le condizioni di Feliciano dopo. La decisione scatena l'ira di Teresa, che, travolta dalla delusione, si lancia nella ricerca di una soluzione per Feliciano, capendo che da Bele e Ana non potranno ottenere aiuto, pregano con speranza che l'intervento di Curro vada a buon fine, ma il silenzio dalla sala operatoria porta sia speranza che incertezza. Nel frattempo, Lorenzo e Cruz, con il pericolo di rivelare i loro segreti, devono affrontare le conseguenze delle loro azioni passate. Romulo, nonostante le minacce di Cruz, si impegna a svelare la verità sull'incidente di caccia in una corsa contro il tempo. Vera, nel tentativo di evitare una situazione imbarazzante con l'ospite di Margarida, si trova coinvolta in un vortice di sospetti. Margarida e Catalina iniziano a dubitare delle intenzioni di Vera, aprendo una nuova prospettiva sul suo misterioso passato. Nel mentre, i sentimenti taciuti di Vera per Lope vengono colti da un occhio attento, creando un potenziale punto di svolta nella loro relazione. L'esito inatteso dell'intervento di Curro solleva nuove sfide per Abel, mettendo a dura prova le sue capacità professionali e le emozioni complesse che lo avvolgono. La gioia segreta di Lorenzo e Cruz contrasta con la tristezza generale, alimentando sospetti su un piano segreto. Mentre Cruz cerca di esercitare pressioni su pelaio per influenzare il destino di Catalina, le tensioni all'interno del palazzo raggiungono nuovi livelli, lasciando spazio a colpi di scena imprevedibili. La gioia segreta di Lorenzo e Cruz contrasta con la tristezza generale, alimentando sospetti su un piano segreto. Mentre Cruz cerca di esercitare pressioni su pelaio per influenzare il destino di Catalina, le tensioni all'interno del palazzo raggiungono nuovi livelli, lasciando spazio a colpi di scena imprevedibili. La decisione di permettere il ritorno di Maria Fernandez, orchestrata da Cruz, non è solo un atto di generosità. Cruz ha tessuto questa mossa come una tela intricata per manipolare le dinamiche familiari, in particolare per guadagnare il sostegno di pelaio nella sua crescente lotta per il controllo. La decisione di permettere il ritorno di Maria Fernandez, orchestrata da Cruz, non è solo un atto di generosità. Cruz ha tessuto questa mossa come una tela intricata per manipolare le dinamiche familiari, in particolare per guadagnare il sostegno di pelaio nella sua crescente lotta per il controllo. L'inaspettato ritorno di Virtudes, la figlia di Simona, svela segreti celati nel passato di Candela, gettando luce su comportamenti misteriosi che avevano affascinato la curiosità degli altri abitanti del palazzo. Il suo arrivo improvviso crea un vortice di emozioni, riaccendendo la gioia nel cuore di Simona e spingendola a riconsiderare il suo passato, aprendo la porta a un futuro pieno di speranza. Il suo arrivo improvviso crea un vortice di emozioni, riaccendendo la gioia nel cuore di Simona e spingendola a riconsiderare il suo passato, aprendo la porta a un futuro pieno di speranza. Vera, con il suo comportamento enigmatico, comincia a catturare l'attenzione generale. La borsa stracolma di soldi che tiene nascosta nella soffitta diventa il fulcro di un mistero che agita le acque già agitate di palacio. Nel mentre, Teresa prende una decisione audace, chiamando un nuovo medico per Feliciano, scuotendo gli equilibri consolidati e creando nuove tensioni. Vera, nel frattempo, scopre dell'arrivo improvviso dell'ospite di Margarida, la duchessa, e fa tutto il possibile per evitare una situazione imbarazzante. Tuttavia, i sospetti di Margarida e Catalina sono suscitati dai repentini cambiamenti di comportamento e dalla nervosità di Vera. L'eccitazione e il disagio di Vera non sfuggono all'attenzione delle due donne. Alimentando il sospetto che Vera stia nascondendo qualcosa, Dott, le accuse di Petra, Diana e Abel per il peggioramento di Feliciano intensificano il conflitto emotivo, mettendo alla prova le fondamenta della fiducia nel palazzo. L'incertezza sulla salute di Curro raggiunge livelli preoccupanti, portando la famiglia sull'orlo dell'angoscia. Con l'arrivo di un nuovo medico e le notizie poco incoraggianti, l'atmosfera a palacio diventa sempre più carica di suspense e apprensione. Petra, al fianco di Feliciano, diventa il baluardo emotivo, ma la sua dedizione attira l'attenzione indagatrice di Kruz. I sospetti di Kruz su un legame più profondo, tra Petra e Feliciano aggiungono un nuovo strato di complessità alle relazioni familiari. Nel mentre, la rabbia di Teresa contro Abel e Gianna mina la coesione familiare, generando un malcontento diffuso. L'ansia aumenta con l'incertezza sulla salute di Curro e il peggioramento delle condizioni di Feliciano. Il palazzo è intriso di un'atmosfera cupa, dove speranze spezzate e destini incerti si fondono in un'armonia tragica. Nella tensione crescente a Palacio, Pelayo si trova di fronte a una scelta rischiosa, un bivio che potrebbe definire il suo futuro e influenzare irrimediabilmente le relazioni intorno a lui. La decisione di permettere il ritorno di Maria Fernandez, orchestrata da Kruz, non è solo un atto di generosità. Kruz ha tessuto questa mossa come una tela intricata per manipolare le Vera con il suo comportamento enigmatico comincia a catturare l'attenzione generale. La borsa stracolma di soldi che tiene nascosta nella soffitta diventa il fulcro di un mistero che agita le acque già agitate di Palacio. Nel mentre, Teresa prende una decisione audace chiamando un nuovo medico per Feliciano, scuotendo gli equilibri consolidati e creando nuove tensioni. Le accuse di Petra, Iana e Abel per il peggioramento di Feliciano intensificano il conflitto emotivo mettendo alla prova le fondamenta della fiducia nel palazzo. L'incertezza sulla salute di Curro raggiunge livelli preoccupanti portando la famiglia sull'orlo dell'angoscia. Con l'arrivo di un nuovo medico e le notizie poco incoraggianti l'atmosfera a Palacio diventa sempre più carica di suspense e apprensione. La figlia di Candela, Virtudes, diventa oggetto di grande curiosità per Gia e gli altri personaggi che si domandano perché non si vedeva da tanto tempo e quali motivi l'abbiano riportata a Palazzo. Petra al fianco di Feliciano diventa il baluardo emotivo ma la sua dedizione attira l'attenzione indagatrice di Cruz. I sospetti di Cruz su un legame più profondo tra Petra e Feliciano aggiungono un nuovo strato di complessità alle relazioni familiari nel mentre la rabbia di Teresa contro Abele e Iana mina la coesione familiare generando un malcontento diffuso. Cruz intensifica la sua pressione su Pelaio spingendolo a prendere decisioni cruciali per il bene della famiglia. Il matrimonio imminente di Catalina diventa una pedina fondamentale nei piani di Cruz per consolidare il suo potere. Mentre le tensioni aumentano il destino di Palacio pende sulla bilancia lasciando intravedere un futuro incerto e coinvolgente per i suoi abitanti. In una suggestiva ambientazione Manuel e Iana si ritrovano desiderosi di condividere il loro amore e la reciproca devozione. nel frattempo Manuel determinato a trionfare nella Herzog Stuckman Cup inizia un severo programma di allenamento affrontando le preoccupazioni della famiglia per dimostrare la sua dedizione. Le tensioni salgono quando Manuel prima di lasciare il palazzo svela a Iana i suoi sospetti riguardo alle mosse di Abel. Egli insinua che Abel stia cercando attivamente di rovinare il loro legame aprendo uno spiraglio su una trama intricata. Giana sconvolta da queste affermazioni inizia a mettere in discussione la sua fiducia in Abel e intraprende un'indagine per scoprire la verità dietro alle sue azioni. La riluttanza di Petra a lasciare il fianco di Feliciano dimostra il suo impegno emotivo e la sua lealtà mentre la salute di Feliciano peggiora anche l'irrequietezza e la preoccupazione di Petra crescono. Per lei stare al fianco di Feliciano e sostenerlo diventa un compito sempre più difficile. Nel frattempo le tensioni aumentano tra i membri della famiglia in particolare tra Petra Abel e Jana generando un clima di conflitto e sfiducia. Tensioni familiari emergono quando Petra incolpa Abel e Jana per il peggioramento della salute di Feliciano generando una spirale di conflitti emotivi e sfiducia. Tuttavia l'incertezza su Curro sottopone tutti a un calvario emotivo e psicologico evidenziando la fragilità dei legami familiari in una situazione così delicata. Mentre Abel si impegna nella rivalutazione delle condizioni di Curro e nella revisione del piano di trattamento Gilli e altri membri della famiglia cercano di esprimere solidarietà. La scelta di Manuel altera i piani precedentemente stabiliti da Cruz gettando incertezza sul futuro della famiglia Lujan. Nonostante Gilli sforzi disperati di Cruz per cambiare la decisione di Manuel quest'ultimo rimane irremovibile aumentando così la tensione tra loro e lasciando in sospeso il destino della famiglia. Romulo Manuel e Alonso si riuniscono per discutere dei sospetti riguardanti l'incidente di caccia. Romulo condivide la sua convinzione che gli eventi non siano stati una coincidenza ma un atto pianificato. Insieme esaminano attentamente i dettagli dell'incidente analizzano le dichiarazioni dei testimoni e raccogliendo prove Romulo giunge alla conclusione che l'attacco a Curro è stato intenzionale. Decisi a scoprire la verità Alonso e Manuel tornano sul luogo dell'incidente per un'ispezione più approfondita con una maggiore attenzione all'ambiente circostante si dedicano alla raccolta di prove determinati a individuare le ragioni dietro l'attacco e a scoprire l'identità dell'aggressore. La loro determinazione li guida in un percorso intricato di indagine gettando luce sui misteri che avvolgono la giornata di caccia. Il passo intrapreso per svelare la verità sull'incidente di Curro si rivela fondamentale per gettare luce su quanto accaduto e garantire la sua incolumità. Mentre Simona sperimenta la gioia di riabbracciare sua figlia Virtudes l'assenza di risposte su Antonito da parte di Candela e Virtudes alimenta dubbi e interrogativi nella mente di Simona. La curiosità di Cruz sulla natura della relazione tra Petra e Feliciano la spinge ad interrogare Pia per ottenere chiarimenti. Pia rispondendo con sincerità fornisce una spiegazione esaustiva della situazione e rivela che il legame tra Petra e Feliciano va oltre il semplice vincolo di fratellanza. Questa rivelazione lascia Cruz sorpresa svelando un intreccio di relazioni più complesso e profondo all'interno del palazzo. Consapevole di quanto appreso sulla relazione tra Petra e Feliciano Cruz prende decisioni di grande portata. Realizzando l'impatto devastante che questa situazione ha sugli equilibri e sulla fiducia all'interno della famiglia Cruz si impegna a agire con determinazione. Inizialmente valuta attentamente i potenziali pericoli associati a questa relazione e riflette sui suoi possibili effetti sulla famiglia e sul palazzo. Successivamente decide di adottare le misure necessarie per risolvere la situazione con l'obiettivo di ripristinare la pace all'interno della famiglia Lujan. L'ardente desiderio di Catalina di restare nel palazzo per sposare Pelaio genera alcune discussioni familiari. Nel contempo la decisione di Maria Fernandez e Salvador di unirsi in matrimonio nonostante le avversità vissute sottolinea la forza del loro amore e della loro solidarietà. Questo passo dimostra il loro impegno reciproco e il desiderio di costruire un futuro insieme nonostante le difficoltà incontrate. Il ritorno di Maria Fernandez e la presenza di Virtudes nel palazzo svelano segreti nascosti e creano nuovi legami familiari. Nel mezzo di tutto ciò Cruz osservando attentamente gli eventi cerca di manipolare situazioni a suo vantaggio creando ulteriore tensione e mistero nel palazzo. Durante l'operazione su Curro la situazione precipita. Teresa sconvolta corre ad avvisare che Feliciano peggiora di minuto in minuto ma la scelta è già stata fatta. Le cure per lui sono state negate. Feliciano privato di ogni speranza si aggrava rapidamente mentre Petra sua madre osserva impotente i suoi occhi pieni di sgomento non riescono a staccarsi dal figlio che si spegne lentamente. Teresa devastata si sente tradita dalle persone che credeva le fossero più vicine abbandonata in un mare di solitudine. L'angoscia le toglie il respiro incapace di fare nulla per salvare Feliciano. Il respiro di Feliciano si fa più debole le sue forze lo stanno abbandonando Petra in un gesto disperato e pieno d'amore prende la testa del figlio morente e se la appoggia delicatamente sul grembo. Con la voce tremante inizia a cantargli una ninna nanna come se volesse accompagnarlo verso un mondo nuovo un luogo dove la sofferenza non può raggiungerlo. Feliciano la ascolta le sue palpebre si chiudono lentamente il suo respiro si fa sempre più lieve fino a svanire per sempre. Nel silenzio che segue il dolore esplode Petra stringe il corpo senza vita del figlio tra le braccia urlando in preda a un dolore lacerante Teresa incapace di accettare l'inevitabile crolla nella disperazione più profonda Feliciano è morto e con lui una parte di loro. Grazie per guardare il video iscriviti lascia un like e commenta cosa ne pensi il tuo supporto significa molto per noi.